Vorrei chiarire che la strada statale 270 viene chiusa in caso di allerta meteo e viene riaperta non alla fine dell'allerta meteo ma solo all'esito di un sopralluogo effettuato dai tecnici e dalla città metropolitana che stabilisca la non pericolosità di percorrenza lì dove si accerti che la pioggia non ha provocato danni e non ha determinato condizioni di pericolo quindi se il sopralluogo viene effettuato e da esito positivo la strada statale viene riaperta altrimenti resta chiusa.